Per quanto poi riguarda i molteplici problemi sorti con il passaggio al digitale, ed in questo caso mi riferisco alla RAI, visto che non è visibile in tante zone del territorio friulano e nello stesso Veneto orientale dove noi stessi abbiamo sottolineato con ospiti in studio, stanno raccogliendo firme e sono un attimino, come? Paghiamo il canone, siamo obbligati a pagare il canone, altrimenti ti vengono a pignorare, canone che è mascherato da una tassa per il possesso dell'apparecchio, ma che di fatto è un canone televisivo che va tutto alla RAI, ormai nella RAI non si vede, in taluna e zone tantissime, anche del Friuli e del Veneto orientale. Ebbene, il nostro gruppo è in grado di offrire un canale di ottima qualità, qualcuno direbbe come in uno specchio, bello, nemmeno una macchia, bellissimo. Noi offriamo un canale a mamma RAI, ad un costo mensile irrisorio e nel costo garantiamo anche l'assistenza. Qualcuno dirà, sì ma che costa, insomma 250 mila euro come Benigni, te perché siamo a quelle... No, no, no. Noi offriamo il nostro segnale, il canale, a 15 mila euro mensili e credetemi è un costo irrisorio. Del resto, amici, se non si investe non si riesce a dare un servizio e mi pare che la RAI sia un servizio pubblico, tant'è che come detto ci costringono a pagare il canone. Peccato che oramai in molti paghino il canone per non essere protagonisti, come la RAI chiama i suoi telespettatori. Noi siamo disponibili a tutto questo, basta bussare e vi sarà aperto.